Ciao a tutti, siamo arrivati al 2003 ed è difficile fare una graduatoria degli eventi più interessanti di quell'anno, parlo degli eventi sportivi. Ce ne sono almeno tre, c'è l'esordio della Ducati MotoGP, l'impresa di Evers che vinse tutto nel motocross e la drammatica scomparsa di Daiji Rocato a Suzuka. L'impegno della Ducati MotoGP era stato annunciato al Mugello nel 2001 ma nessuno pensava che la Desmo 16 di Filippo Preziosi che era scesa in pista per la prima volta con Guareschi nel 2002 potesse partire già così bene nel suo primo anno di MotoGP con il podio di Capirossi a Suzuka, il terzo posto per cominciare ed era la prima gara dell'anno, poi arrivò il secondo posto al Mugello e infine la strepitosa vittoria a Barcellona davanti a Rossi la settimana dopo il Mugello e Capirossi fu in quella prima stagione fantastica della Ducati MotoGP alla fine quarto assoluto. E Stefan Evers nella carriera del fuoriclasse belga ci sono dieci titoli mondiali del motocross ma spicca un'impresa particolare compiuta proprio in quel 2003. In quell'anno Stefan vinse 8 Gran Premi della 125, 9 della MX1 e persino una Manche della GP650. Nessun altro aveva vinto prima di lui in tre cilindrate diverse nello stesso anno e nessun altro ci sarebbe più riuscito. E infine Dai Giro Cato, ormai era italiano d'adozione Dai Giro, viveva in Romagna, correva in quel 2003 in MotoGP per il team Gresini dopo il titolo in due e mezzo del 2001. Alla fine del terzo giro del primo Gran Premio dell'anno a Suzuka la sua RC211V perse improvvisamente aderenza e invece di finire in un high side come tante volte accadeva la moto scartò di lato e puntò dritta verso bordo pista dove purtroppo c'era un muretto nascosto dalle baglie di Paglia. Quindi a una velocità spaventosa Dai Giro fu proiettato contro le protezioni e purtroppo il 6 aprile entrò in coma e dopo 14 giorni, il 20 aprile senza aver mai ripreso conoscenza, Dai Giro morì lasciando la moglie e due figli. Un incidente misterioso che Honda non ha mai veramente chiarito.